numero 5 set da 6 piatti rettangolari in ardesia questi piatti sono spaziosi misurano 30 centimetri di larghezza per 10 di altezza ideali per servire e mettere in risalto antipasti snack sushi e dolcetti facili da pulire in quanto la pietra ardesia non trattiene grasso e sporco ogni piatto è dotato di gommini antiscivolo ottimo articolo trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 set da 4 piatti rettangolari in ardesia naturale antiscivolo grazie ai 4 gommini posti nella parte posteriore questi piatti realizzati in ardesia sono semplici ed eleganti adatti a qualsiasi ambiente prodotto facile da lavare grazie alla superficie in pietra che non trattiene e assorbe lo sporco ogni piatto misura 30 centimetri di lunghezza per 20 di altezza ottima idea regalo per gli amanti dello stile minimal il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 set da 6 piatti tondi in pietra ardesia dotati di piedini in cauccio antiscivolo perfetti per servire tutte le portate come antipasti finger food dolci sushi un'idea creativa che fa da cornice alle tue ricette il profilo irregolare da vita ad un contrasto elegante la superficie ruvida e scura rende questi piatti di una straordinaria bellezza si consiglia il lavaggio a mano sotto acqua tiepida corrente non lavare in lavastoviglie prodotto non adatto per forno e forno a microonde se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 2 set di sei piatti in ardesia naturale nella misura 30 per 20 centimetri look elegante e minimal perfetto per servire aperitivi antipasti sushi e dessert ciascun piatto è dotato di quattro gommini antiscivolo nella parte inferiore per proteggere la superficie sottostante ottimo set per servire sia piatti caldi che freddi a casa ma adatti anche a bar o ristoranti facili da pulire basta una passata di spugna oppure sotto acqua corrente l'ardesia non è adatta per il microonde set disponibile in diverse misure trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 piatto rotondo dal diametro di 30 centimetri realizzato in ardesia ideale per servire antipasti e dessert con piedini antiscivolo si pulisce con una semplice passata di spugna o sotto l'acqua corrente ottimo rapporto qualità prezzo in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto